Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In FIPILI un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 4 e 900 tra Firenze Scandici e la Strassignan direzione Livorno. Coda in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. In A1 verso Roma rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Nord e Firenze Scandici. Per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, domani sera dalle 22 all'1 sarà chiuso il ramo di allacciamento tra la 1 e la 11 per chi proviene da Roma ed è diretto verso Firenze. In A11 stanotte e domani notte in orario 22.6 sarà chiuso lo svincolo di Capannori in uscita per chi proviene da Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze fino al 2 maggio, senso unico in via Perfetti Ricasoli nel tratto tra Viale 11 Agosto e via Famiglia Benini. Ed è tutto, buon viaggio!